Pensare che per esempio il 30% della piattaforma logistica, che tra l'altro ha traffici assolutamente minimi al momento, pensare che il 30% della piattaforma logistica possa cambiare, possa essere comprare il porto di Trieste, non ha alcun senso. Basti pensare che abbiamo la Evergreen di Taiwan che gestisce molti più traffici all'interno del porto di Trieste. Quindi anche questo, però come si risolve questo genere di situazioni in cui Trieste si trova e se ci sarà uno sviluppo di quella che è la legge internazionale sul porto e anche sul territorio di Trieste, ci troveremo ad affrontare anche in futuro. Noi di Podemo pensiamo di avere come soluzione quella che è la neutralità, e ce l'abbiamo nel programma, la neutralità dell'amministrazione del comune per esempio di Trieste. Questo cosa significa? Non vuol dire che le persone non possano avere una loro opinione ovviamente riguardo a quello che succede nel mondo, questo è legittimo, ci sarà sempre e ci mancherebbe altro. Però come amministrazione ci vorrebbe un atteggiamento neutrale. Adesso noi vediamo che questo c'è per esempio nel caso della Svizzera, c'è nel caso dell'Austria dal dopoguerra e ha portato dei vantaggi enormi. Ora noi abbiamo un porto che da trattato da legge internazionale e anche locale sulla carta, in vigore è appunto internazionale, e sia a favore di Trieste che della comunità internazionale. Se a questo affianchiamo un atteggiamento di neutralità, ma quella vera, allora possiamo davvero cominciare a fare traffici, a gestire situazioni anche complesse con tutti e ad ottenere dei vantaggi per Trieste. Non si capisce perché non farlo.